Circa 11.000 euro raccolti per la borsa di studio intitolata Federica Tropiano. Il Vallo di Diano ha contribuito con grande generosità all'iniziativa promossa dall'Associazione Finamore di Sala Consilina per portare avanti il sogno della giovane tegianese deceduta a seguito drammatiche vicende lo scorso novembre e lasciando nel profondo sconforto l'intero comprensorio che per giorni si era stretto alla famiglia nella speranza di poter riabbracciare la ventunenne rimasta gravemente ferita a seguito incidente domestico. La sua scomparsa in tenere età con l'amore per la danza aveva spinto quanti colpiti dal dolore e volevano rendere indelebile il suo ricordo. Parte da qui l'iniziativa dell'Associazione Antonio Finamore di Sala Consilina che è stata poi accolta e portata avanti anche da altri amici e altre associazioni locali per la costituzione di una borsa di studio in danza intitolata Federica Tropiano per consentire ad altri giovani del territorio di proseguire il sogno della giovane danzatrice tegianese. La raccolta fondi si è rivelata un utile gesto anche per dimostrare la vicinanza alla famiglia in giorni difficili anche a seguito delle diverse disposizioni che hanno impedito a molti di partecipare all'ultimo saluto della ragazza. La settimana scorsa, in occasione della Santa Messe in onore di Federica Tropiano, nel trigesimo della sua scomparsa, è stata resa nota la cifra raccolta che ammonta circa 11.000 euro, di cui 8.000 raccolti dall'Associazione Finamore ed il restante frutto di raccolte private o di altre associazioni. Sarà la famiglia della giovane a decidere i tempi e le fasi della consegna della borsa di studio in momenti migliori e in una fase successiva, magari quando sarà reso il giusto merito al ricordo della giovane valdianese e al gesto di solidarietà, affetto e dolore di una comunità che non ha potuto stringersi alla famiglia della ragazza e manifestare lo sconforto per la tragedia.